Con la guancia l'angolo fresco. Chi mi vede seduto ai piedi dell'albero mi crede un fallito. Invece sono uno sconfitto da un'austera signora, che si chiama lunghezza della sofferenza. La signora lunghezza frequenta la strada che frequento anche io. Mi affianca la mattina appena mi sveglio, ma poi io resto indietro, perché sono già stanco. Ma si ferma anche lei e mi aspetta, perché la raggiunga. Quando con la guancia di notte cerco l'angolo fresco del mio cuscino, la sofferenza mi parla all'orecchio e la lunghezza mi vuole comprare anche quei sogni che non ho ancora venduto. Commento. La causa della sofferenza è l'io. È l'io che soffre. È l'illusione della separatività, dell'essere separato dagli altri la causa della sofferenza. Fino a quando esiste l'io, persiste il dolore. Quanto più l'io è valorizzato, innalzato, sublimato, più cresce la causa del soffrire. Fino a che esiste l'io, sussiste la corruzione, la lotta e il dolore. Quindi è solo l'io che fallisce.